Lezione 1. Come hai iniziato la tua giornata oggi? Ciao Anna, come hai iniziato la tua giornata oggi? Oggi ho iniziato la giornata libera con una tazza di caffè. Questo è un modo popolare per iniziare la mattinata. Sì, mi aiuta a sentirmi più sveglia e concentrata. Hai dei rituali o delle routine mattutine? Di solito mi prendo qualche minuto per fare stretching e respirare profondamente. È un ottimo modo per concentrarti prima che inizi la giornata. Mi aiuta a sentirmi più radicato e pronto per la giornata a venire. Hai piani o obiettivi specifici per oggi? Ho alcune attività lavorative da completare, una riunione nel pomeriggio. Sembra una giornata impegnativa. Ricordati anche di fare delle pause. Sì, farò in modo di fare delle brevi pause per riposare e rilassarmi. Questo è importante per mantenere la produttività e il benessere. Sono d'accordo. L'equilibrio è fondamentale. Ti auguro una giornata piena di successi e produttività, Anna. Grazie, John. Lo apprezzo. Buona giornata anche a te. Prego, Anna. Prenditi cura di te e buona giornata. Lezione 2. Come ti senti oggi? Ciao, Anna. Come ti senti oggi? Mi sento idratata e rinfrescata. È bello sentirlo. Hai bevuto abbastanza acqua? Sì, mi sono assicurato di bere molta acqua durante il giorno. Rimanere idratati è importante per il nostro benessere generale. Sono d'accordo. Mi aiuta a sentirmi più energica e concentrata. Qualche consiglio per rimanere idratati? Porto sempre con me una bottiglia d'acqua e bevo spesso dei sorsi. È una buona abitudine da avere. È facile dimenticare di bere abbastanza acqua. Ci vuole un po' di pratica, ma col tempo diventa naturale. Noti dei benefici nel rimanere idratato? Sicuramente. Migliora la mia pelle, la digestione e la salute. Salute generale. Meraviglioso. Continua così, Anna. Grazie, John. Lo farò. Vi auguro una buona giornata. Anche tu, Anna. Rimani idratato e abbi cura di te. Lezione 3. Incorpori l'esercizio nella tua routine quotidiana? Ciao, Anna. Incorpori l'esercizio nella tua routine quotidiana? Sì, faccio qualche tipo di esercizio per circa 30 minuti. Questo è fantastico. Che tipo di esercizi fai di solito? Mi piace un mix di esercizi cardio e di allenamento della forza. Come trovi il tempo per allenarti ogni giorno? Ne faccio una priorità e lo inserisco nella mia giornata. Questo è un approccio intelligente. La coerenza è fondamentale. Mi aiuta a rimanere attiva e a mantenere la mia forma fisica. Hai qualche esercizio o allenamento preferito? Mi piacciono il jogging, lo yoga e gli esercizi a corpo libero. Queste sono ottime scelte per mantenersi in forma e flessibili. Funzionano bene per me e mi mantengono motivato. Come ti senti dopo l'allenamento? Mi sento energizzata e rinfrescata, pronta per affrontare la giornata. È incredibile come l'esercizio fisico possa avere effetti così positivi. Assolutamente. È importante per il benessere fisico e mentale. Continua così, Anna. La tua dedizione è fonte di ispirazione. Grazie, John. Apprezzo il tuo supporto. Prego, Anna. Fai un fantastico allenamento oggi. Grazie, John. Anche tu. Rimani attivo e abbi cura di te. Lezione 4. Ti sei truccato oggi? Ciao, Anna. Ti sei truccata oggi? Sì, mi sono truccata stamattina. Questo è grandioso. Che tipo di trucco indossi di solito? Di solito indosso fondotinta, mascara e rossetto. Quanto tempo impieghi di solito per truccarti? Mi ci vogliono circa 10-15 minuti per truccarmi. Hai qualche marchio o prodotto di trucco preferito? Mi piace usare un mix di farmacie e marchi di fascia alta. È bello avere delle opzioni e trovare ciò che funziona per te. Sì, è tutta una questione di preferenze personali, e di ciò che mi fa sentire sicuro. Hai qualche consiglio o trucco per il trucco? Mi assicuro sempre di idratare la pelle prima di applicare il trucco. Questo è un buon consiglio. La cura della pelle è importante per un'applicazione fluida. Assolutamente. Aiuta il mio trucco ad apparire più naturale e a durare più a lungo. Stai sempre benissimo, Anna. Il tuo trucco ti sta bene. Grazie, John. Apprezzo le tue gentili parole. Prego, Anna. Ti auguro una splendida giornata truccata. Grazie, John. Anche tu. Prenditi cura di te e buona giornata. Anche tu, Anna. Rimani bella e sicura di te. Lezione 5. Cosa hai mangiato a colazione oggi? Ciao, Anna. Cosa hai mangiato a colazione oggi? Ho fatto una colazione leggera a base di farina d'avena con frutta. Sembra salutare e nutriente. Sì, mi dà energia per iniziare la giornata. Di solito fai una colazione leggera? Sì, preferisco iniziare la giornata con qualcosa di leggero. Hai provato a mangiare uova a colazione? Sì, a volte mangio uova strapazzate con pane tostato. Le uova sono una buona fonte di proteine. Mi fanno sentire pieno e soddisfatto. Farina d'avena e uova sono entrambe ottime opzioni per la colazione. Forniscono un buon equilibrio di nutrienti. Aggiungete dei condimenti alla vostra farina d'avena? A me piace aggiungere una spruzzata di cannella e un filo di miele. Sembra delizioso. Dovrò provarlo qualche volta. Aggiunge un po' di sapore e dolcezza alla farina d'avena. Grazie per aver condiviso le tue scelte per la colazione, Anna. Benvenuto, John. Buona giornata. Anche tu, Anna. Goditi la colazione e abbi cura di te. Lezione 6. Cosa metti in valigia di solito per pranzo? Ciao, Anna. Cosa prepari di solito per pranzo? Preparo velocemente un'insalata o un panino per pranzo. È una scelta comoda e salutare. Sì, mi permette di consumare un pasto equilibrato mentre sono in viaggio. Che tipo di insalate preparate? Mi piace mescolare le verdure con le verdure e aggiungere alcune proteine come pollo o fagioli. Sembra rinfrescante e saziante. Mi mantiene soddisfatto per tutto il giorno. E che dire dei panini? Di solito preferisco pane integrale con carni magre e verdure. Semplice e gustoso hai dei condimenti o delle creme da spalmare preferite? Mi piace usare le vinaigrette o l'humus come alternativa più salutare. È un buon modo per aggiungere sapore senza troppe calorie. Esattamente. Si tratta solo di trovare un equilibrio. Hai qualche consiglio per preparare il pranzo in modo facile e veloce? Preparare gli ingredienti in anticipo e utilizzare contenitori riutilizzabili aiutano molto. Questo è un approccio intelligente per risparmiare tempo e ridurre gli sprechi. È comodo per le giornate impegnative. Beh, i tuoi pranzi al sacco sembrano deliziosi e nutrienti. Grazie, John. Lo apprezzo. Prego, Anna. Buon pranzo e buona giornata. Grazie, John. Anche tu. Abbi cura di te. Lezione 7. Come fai di solito a recarti al lavoro? Ciao, Anna. Come fai di solito a recarti al lavoro? Vado al lavoro in bici. Ci vogliono circa 20 minuti. È un modo di viaggiare sano ed ecologico. Sì, è sia comodo che divertente. Devi affrontare delle difficoltà mentre vai al lavoro in bicicletta? A volte devo navigare nel traffico, ma nel complesso è una guida fluida. Hai notato dei vantaggi nell'andare in bicicletta al lavoro? Mi aiuta a rimanere attivo e a risparmiare denaro sui trasporti. Questo è grandioso. È una situazione vantaggiosa per tutti. Inoltre, è un modo rinfrescante per iniziare e terminare la giornata lavorativa. Hai qualche consiglio per andare in bicicletta al lavoro in sicurezza? Indossare un casco, rispettare le regole del traffico e avere indumenti riflettenti sono importanti. La sicurezza deve essere sempre una priorità. Assolutamente. È fondamentale quando si pedala in città. Bene, è incomiabile che tu scelga la bicicletta come tragitto giornaliero. Grazie, John. Mi diverto molto. Prego, Anna. Buon giro in bici al lavoro e buona giornata produttiva. Grazie, John. Anche tu. Abbi cura di te. Lezione 8. Qual è la prima cosa che fai quando vai al lavoro? Ciao, Anna. Qual è la prima cosa che fai quando vai al lavoro? Mi piace prima recuperare il ritardo sulle e-mail. È un buon modo per rimanere organizzati e informati. Sì, mi aiuta a dare priorità alle mie attività quotidiane. Come gestisci la tua casella di posta elettronica in modo efficiente? Cerco di rispondere subito alle e-mail urgenti e di classificare le altre per dopo. Qualche consiglio per rimanere aggiornato sulle e-mail? Può essere utile impostare orari prestabiliti per controllare e rispondere alle e-mail. Questo è un approccio intelligente per evitare distrazioni costanti. Mi mantiene concentrato anche su altri lavori importanti. Hai qualche strategia per gestire un grande volume di e-mail? Uso filtri e cartelle per organizzare e ordinare le mie e-mail. È un buon modo per mantenere le cose organizzate e facilmente accessibili. Sì, consente di risparmiare tempo e impedisce la perdita di e-mail importanti. Bene, sembra che tu abbia un buon sistema per la gestione della posta elettronica. Grazie, John. Mi aiuta a rimanere produttivo. Prego, Anna. Ti auguro una giornata di lavoro produttiva. Grazie, John. Anche tu. Abbi cura di te. Lezione 9. Qual è la prossima cosa che fai dopo aver controllato le tue e-mail? Ciao, Anna. Qual è la prossima cosa che fai dopo aver controllato le tue e-mail? Controllo la mia agenda per vedere quali riunioni ho. È un buon modo per pianificare la giornata e rimanere organizzati. Sì, mi aiuta a dedicare tempo a diverse attività. Come stabilisci le priorità delle tue riunioni? Di solito do priorità alle riunioni in base alla loro importanza e urgenza. Avete delle strategie per prepararvi alle riunioni? Mi assicuro di esaminare preventivamente qualsiasi materiale o nota pertinente. Questo è un approccio proattivo per essere ben preparati. Mi aiuta a partecipare e contribuire attivamente durante le riunioni. Qualche consiglio per gestire le riunioni consecutive? Fare brevi pause tra una riunione e l'altra e rimanere concentrati è importante. Questo è un buon modo per evitare il burnout e mantenere la produttività. Sì, mi permette di rimanere impegnato e attento. Beh, sembra che tu abbia una buona routine per la gestione delle riunioni. Grazie, John. Mi aiuta a rimanere organizzata ed efficiente. Prego, Anna. Vi auguro una buona giornata con le vostre riunioni. Grazie, John. Anche tu. Abbi cura di te. Lezione 10. Hai qualche consiglio per evitare il traffico durante gli spostamenti? Ciao, Anna. Hai qualche consiglio per evitare il traffico durante i tuoi spostamenti? Di solito arrivo presto e parto un po' presto. Questa è una strategia intelligente. In che modo ti aiuta? Mi aiuta a evitare il traffico e ad avere una guida più fluida. Hai orari specifici in cui esci dal lavoro? Cerco di andarmene un po' prima che cominci l'ora di punta. Questo è un buon modo per evitare il picco di congestione del traffico. Sì, mi fa risparmiare tempo e riduce lo stress sulla strada. Trovi che arrivare in anticipo sia utile in altri modi? Sì, mi dà un po' di tempo in più per ambientarmi e prepararmi per la giornata. È sempre bello avere qualche momento di pace prima di iniziare il lavoro. Sicuramente. Mi aiuta a iniziare la giornata con calma e concentrazione. Beh, il tuo approccio per evitare il traffico sembra efficace. Grazie, John. Per me funziona bene. Prego, Anna. Ti auguro un tragitto regolare e una giornata produttiva. Grazie, John. Anche tu. Abbi cura di te. Lezione 11. Cosa fai di solito quando torni a casa dal lavoro? Ciao, Anna. Cosa fai di solito quando torni a casa dal lavoro? Tornando a casa, mi fermo spesso al negozio a prendere cibo fresco per cena. È un ottimo modo per assicurarti di avere ingredienti freschi per i tuoi pasti. Sì, mi permette di preparare una cena sana e deliziosa. Hai qualche articolo preferito che vorresti ritirare in negozio? Mi piace mangiare una varietà di verdure, frutte e proteine magre. Sembra un pasto equilibrato e nutriente. Mi aiuta a mantenere una dieta sana, e a divertirmi a cucinare a casa. Qualche consiglio per fare acquisti in modo efficiente in negozio? Di solito faccio una lista della spesa in anticipo e la seguo. È un buon modo per rimanere concentrati ed evitare acquisti impulsivi. Sì, mi aiuta a risparmiare tempo e denaro. Beh, sembra che tu abbia una buona routine per fare la spesa. Grazie, John. Per me funziona bene. Prego, Anna. Goditi i tuoi ingredienti freschi e buona cena. Grazie, John. Anche tu. Abbi cura di te. Lezione 12. Cosa fai di solito per rilassarti prima di andare a letto? Ciao, Anna. Cosa fai di solito per rilassarti prima di andare a letto? Mi distendo prima di andare a letto alle 10. È una buona abitudine. Come ti rilassi? Mi piace leggere un libro o ascoltare musica rilassante. Sembra un modo rilassante per prepararsi al sonno. Sì, mi aiuta a liberare la mente e rilassare il corpo. Hai altre attività che ti aiutano a rilassarti? A volte faccio un bagno caldo o faccio un po' di stretching. Questi sono ottimi modi per favorire il rilassamento e prepararsi al sonno. Assolutamente. Mi aiutano a passare a uno stato di riposo. Qualche consiglio per dormire bene la notte? Creare un ambiente confortevole per il sonno e attenersi alla routine della buonanotte può aiutare. Questo è un buon approccio per stabilire abitudini di sonno sane. Sì, favorisce una migliore qualità del sonno e il benessere generale. Beh, sembra che tu abbia una buona routine per rilassarti e dormire bene la notte. Grazie, John. Per me funziona bene. Prego, Anna. Ti auguro una notte riposante e sogni d'oro. Grazie, John. Anche tu. Abbi cura di te. Lezione 13. Stavo pensando di portarla fuori per una cena a sorpresa stasera. Ciao, Anna. Stavo pensando di portarla fuori per una cena a sorpresa stasera. Sembra un'ottima idea. Ma temo che possa già avere dei piani. Forse puoi chiederle sottilmente se è disponibile stasera. Non voglio rovinare la sorpresa se ha dei piani. Puoi provare a chiederglielo senza svelare la sorpresa. Questo è un buon suggerimento. Troverò un modo per chiederglielo con disinvoltura. È importante considerare i suoi orari prima di pianificare la sorpresa. Sì, voglio assicurarmi che sia una serata speciale per entrambi. Sono sicuro che apprezzerà lo sforzo che ci metti. Lo spero. Voglio che sia una notte memorabile per entrambi. Basta comunicare con lei e vedere se stasera va bene per lei. Hai ragione, parlerò con lei e scoprirò il momento migliore per la nostra cena a sorpresa. Buona fortuna, John. Spero che tutto vada bene. Grazie, Anna. Apprezzo il tuo consiglio. Benvenuto, John. Godetevi la cena a sorpresa insieme. Grazie, Anna. Abbi cura di te. Lezione 14 Che ne dite di ordinare una pizza e guardare un film insieme? Ciao, Anna. Che ne dici se ordiniamo una pizza e guardiamo un film insieme? Sembra un'ottima idea. Che tipo di pizza vorresti? Ho voglia di una classica pizza ai peperoni. Perfetto, allora ordinerò una grande pizza ai peperoni. Grazie, John. E' il mio preferito. Preferenze cinematografiche? Che ne dici di una commedia o di un film d'azione? Suona bene. Scegliamo una commedia divertente per alleggerire l'atmosfera. Esaminerò le opzioni e ne troverò una buona. Prenditi il tuo tempo e fammi sapere quando hai deciso. Bene, troverò il film perfetto per la nostra serata dedicata alla pizza. Non vedo l'ora. Sarà divertente. Anche io, John, sarà una serata rilassante e piacevole. Una pizza e una serata al cinema con te sono sempre le migliori. Grazie, John. Lo rendi speciale. E' un piacere per me. Divertiamoci insieme. Assolutamente. Approfondiamo e godiamoci il film. Sembra un piano. Pizza e risate, arriviamo. Davvero? Facciamo in modo che sia una notte memorabile. Bene, prepariamo tutto. Serata con pizza e cinema, ci siamo. Non vedo l'ora. Facciamo in modo che sia una bella serata, John. Sicuramente, Anna. Goditi la serata e abbi cura di te. Anche tu, John. Divertiti alla grande. Lezione 15 Aiutare con alcune faccende domestiche Ciao Anna, hai detto che vuoi che ti aiuti con alcune faccende domestiche oggi? Sì, John. Sarebbe bello se potessi dare una mano. Certo, sono felice di aiutarti. Cosa bisogna fare? Dobbiamo pulire il bagno e spirare i pavimenti. Va bene, mi occuperò io della pulizia del bagno. Grazie, John. Mi occuperò dell'aspirapolvere. Lavoriamo insieme e facciamolo in modo efficiente. D'accordo, il lavoro di squadra lo renderà più facile e veloce. Dovremmo iniziare prima dal bagno? Sì, affrontiamo prima la pulizia del bagno. Abbiamo tutti i prodotti per la pulizia di cui abbiamo bisogno? Sì, sono sotto il lavandino. Prendi quello che ti serve. Bene, raccoglierò i prodotti per la pulizia e inizierò. Prendo l'aspirapolvere e comincerò a passare l'aspirapolvere. Assicuriamoci di pulire ogni angolo e superficie. L'attenzione e dettagli è importante per una pulizia accurata. Pulirò il bagno, pulirò il lavandino e pulirò la doccia. Aspirerò i pavimenti e mi assicurerò che siano immacolati. Siamo una buona squadra, Anna. Siamo in grado di farlo. Assolutamente, John. Assieme, possiamo gestire qualsiasi cosa. Una volta che abbiamo finito, possiamo rilassarci e goderci la nostra casa pulita. Sarà bello rilassarsi in un ambiente ordinato. Mettiamoci al lavoro e facciamo risplendere la casa. Pronti, partenza, via. Facciamolo, John. Bene, Anna. Facciamo brillare la casa. Buona fortuna, John. Facciamo quelle faccende. Grazie, Anna. Buona fortuna anche a te. Facciamo del nostro meglio. Facciamolo. Lezione 16. Pianificare di giocare ai videogiochi tutto il giorno. Ciao, Anna. Stavo pensando di giocare ai videogiochi tutto il giorno. Sembra un'idea divertente. A quali giochi vuoi giocare? Ho in mente alcuni giochi, come i giochi di corse e di avventura. Volete suonare insieme o da soli? Sarebbe fantastico se potessimo giocare insieme. Certo, ho voglia di giocare. Trasformiamola in una maratona di giochi. Fantastico. Possiamo fare i turni e provare diversi giochi. Abbiamo snack e bevande per la nostra sessione di gioco? Prendo degli snack e delle bevande prima di iniziare. Perfetto. È importante rimanere riforniti e idratati. Configuriamo la console di gioco e prepariamoci a giocare. Prenderò il controller e installerò l'area di gioco. Dovremmo iniziare con un gioco di corse? Suona bene. Corriamo e vediamo chi è il pilota migliore. Sfida accettata. Preparati a mangiare la mia polvere. Lo vedremo. Ti darò una forte concorrenza. Divertiamoci e godiamoci la nostra giornata di gioco insieme. Assolutamente. Si tratta solo di divertirsi. Grazie per esserti unito a me per una giornata di gioco. Nessun problema, John. È sempre divertente giocare con te. Oggi creiamo alcuni ricordi di gioco indimenticabili. Sono pronto per questo. Saliamo di livello e conquistiamo quei giochi. Bene, Anna. Va avanti il gioco. Il gioco inizia, John. Facciamolo. Buona fortuna, Anna. Che i giochi abbiano inizio. Grazie, John. Che vinca è il giocatore migliore. Lezione 17. Devo lavare i piatti o passare l'aspirapolvere? Ciao, Anna. Devo lavare i piatti o passare l'aspirapolvere? Che ne dici se lavi i piatti e io mi occupo dell'aspirapolvere? Sembra un piano. Inizierò con i piatti allora. Grazie, John. Grazie per il tuo aiuto. Nessun problema, Anna. Sono felice di contribuire. Assicuriamoci di lavare accuratamente i piatti. Sicuramente. Vogliamo che siano perfettamente puliti. Prendo l'aspirapolvere e inizierò. Fantastico, i pavimenti saranno puliti in pochissimo tempo. Siamo una buona squadra quando si tratta di faccende domestiche. È vero, lavoriamo bene insieme. È importante mantenere la nostra casa pulita e ordinata. Sono d'accordo, una casa pulita è più confortevole. Mettiamoci al lavoro e finiamo le attività in modo efficiente. Facciamolo. Avremo tutto scintillante in men che non si dica. Sono felice che possiamo contare l'uno sull'altro per aiutarci. Anch'io, Anna. Possiamo fare qualsiasi cosa insieme. Una volta che abbiamo finito, possiamo rilassarci e goderci il nostro spazio pulito. Questa è la parte migliore. Una casa pulita è così rinfrescante. Bene, iniziamo a farlo risplendere. Pronti, partenza, via. Affrontiamo quelle faccende. Buona fortuna, John. Mettiamo a posto i piatti e i pavimenti. Grazie, Anna. Buona fortuna anche a te. Facciamo del nostro meglio. Facciamolo. Lezione 18. Dobbiamo portare fuori la spazzatura e pulire il bagno? Ciao, Anna. Dobbiamo portare fuori la spazzatura e pulire il bagno? Sì, affrontiamo questi compiti oggi. Mi occuperò io di portare fuori la spazzatura. Grazie, John. Mi occuperò della pulizia del bagno. Assicurati di legare bene il sacco della spazzatura. Lo farò. Non vogliamo fuoriuscite o sporchi. Prendo il bidone della spazzatura e vado fuori. Non dimenticare di sostituire la borsa con una nuova. Non lo farò. Farò in modo che tutto sia pulito e ordinato. Vado a prendere i prodotti per la pulizia del bagno. Pulisci accuratamente il lavandino, il WC e la doccia. Pulirò ogni angolo e lo farò risplendere. Siamo una buona squadra, Anna. Siamo in grado di farlo in modo efficiente. Assolutamente, John. Assieme, possiamo gestire qualsiasi compito. Una volta che avremo finito, avremo una casa fresca e pulita. Sarà così bello avere tutto in ordine. Mettiamoci al lavoro e finiamo velocemente queste faccende. Pronti. Partenza. Via. Rendiamo la nostra casa immacolata. Buona fortuna, Anna. Buttiamo fuori la spazzatura e puliamo il bagno. Grazie, John. Buona fortuna anche a te. Facciamo del nostro meglio. Andiamo. Lezione 19. Per favore rimettila sullo scaffale. Anna, ti è caduto un piatto. Rimettila sullo scaffale, per favore. Mi dispiace, John. Starò più attento la prossima volta. Gli incidenti accadono, basta essere più cauti. Mi assicurerò di gestire le cose con cura. È importante evitare rotture inutili. Capisco, John. Sarò più attento. Grazie, Anna. Evitiamo altri incidenti. D'ora in poi presterò particolare attenzione. Fantastico. Possiamo evitare contrattempi futuri. Apprezzo la tua comprensione, John. Tutti commettiamo degli errori, impariamo solo da essi. Assolutamente, la prenderò come una lezione. Andiamo avanti e stiamo più attenti in futuro. Concordato. D'ora in poi, niente più incidenti. Mi fido di te, Anna. So che farai meglio. Grazie per la tua fiducia in me, John. Siete i benvenuti. Teniamo al sicuro i nostri effetti personali. Sicuramente, John. Cerchiamo di essere più cauti insieme. Lezione 20. Penso che tu sia una casalinga fantastica. Anna. Penso che tu sia una casalinga fantastica. Davvero? Grazie, John. Gestisci la casa così bene. Faccio del mio meglio per mantenere le cose in ordine. Sei bravissimo a pulire e organizzare. È importante creare un ambiente confortevole. Sei anche una cuoca fantastica. Mi piace preparare piatti deliziosi per noi. Ti prendi cura di tutti con tanto amore. Voglio assicurarmi che tutti si sentano accuditi. Siamo fortunati ad averti nella nostra vita. Sono grata di far parte di questa famiglia. La tua dedizione e il tuo duro lavoro non passano inosservati. Grazie, John. Il tuo supporto significa molto. Sei davvero una casalinga fantastica. Apprezzo le tue gentili parole, John. Lezione 21. Preparerò l'insalata. Preparerò l'insalata. Ottimo. Preparerò il pane all'aglio. Hai bisogno di aiuto per questo? No, è abbastanza semplice. Va bene, fammi sapere se hai bisogno di qualcosa. Lo farò. Grazie, John. Prego, Anna. Divertiti a preparare il pane all'aglio. Lo farò, John. Anche l'insalata sarà deliziosa. Lo spero. Formiamo un'ottima squadra in cucina. Sicuramente. Ci divertiamo sempre a cucinare insieme. Questo è vero. Cucinare ci avvicina. È un modo meraviglioso per creare legami. Concordato. Cominciamo allora. Sì, prepariamo un delizioso pasto insieme. Preparerò l'insalata. Ottimo. Preparerò il pane all'aglio. Hai bisogno di ingredienti specifici per l'insalata? Bastano un po' di lattuga, pomodori e cetrioli. Ok, li prendo dal frigo. Grazie, John. Che ne dici del condimento? Abbiamo del condimento italiano nella dispensa. Perfetto. È il mio preferito. Sono contenta che ti piaccia. C'è nient'altro che posso fare? Potresti lavare e tagliare le verdure, per favore? Una cosa sicura. Me ne occuperò io. Grazie, John. Sei di grande aiuto. È un piacere, Anna. Siamo un'ottima squadra. Sicuramente. È più divertente cucinare insieme. Sono d'accordo. Inoltre, anche il cibo ha un sapore migliore. Assolutamente. I pasti fatti in casa sono i migliori. Posso già immaginare quanto sarà deliziosa la nostra cena. Anche io. Mi viene fame solo a pensarci. Beh, non facciamo aspettare più a lungo lo stomaco. Concordato. Iniziamo a cucinare e godiamoci il pasto insieme. Lezione 22, andiamo a fare la spesa. Anna, andiamo a fare la spesa. Certo, dobbiamo procurarci tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Abbiamo una lista della spesa? Non ancora, ma possiamo prepararne uno velocemente. Ottimo, prendo carta e penna. Abbiamo bisogno di frutta, verdura e un po' di carne. Dovremmo procurarci anche dei prodotti lattiero caseari? Sì, latte, formaggio e yogurt sarebbero buoni. Qualche marca o tipo specifico? Solo i soliti che compriamo. Va bene, c'è qualcos'altro sulla lista? Forse anche del pane e delle uova. Ok, abbiamo quasi finito con la lista. Non dimenticare snack e bevande. Giusto, patatine, soda e acqua. Perfetto, la nostra lista è completa. Prendiamo i portafogli e andiamocene. Pronti a partire. Prendiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. E magari qualche dolcetto anche per noi stessi. Naturalmente, una piccola ricompensa per il nostro giro di shopping. Facciamo in modo che sia una gita divertente e produttiva. Assolutamente. Andiamo a fare la spesa. Lezione 23. Abbiamo avuto difficoltà a scegliere la frutta e la verdura giuste. Anna, abbiamo avuto difficoltà a scegliere la frutta e la verdura giuste. Sì, è stato difficile trovare quelli maturi. Penso che dovremmo cercarne di solidi ma non troppo duri. Questa è una buona osservazione. I frutti di bosco possono essere troppo maturi. E le verdure dovrebbero avere un colore vivace e prive di imperfezioni. Sicuramente, vogliamo che siano freschi e nutrienti. C'è voluto del tempo, ma penso che abbiamo fatto un buon lavoro nel selezionarli. Sono d'accordo. I nostri sforzi saranno ripagati dai deliziosi pasti che prepareremo. Vale la pena fare uno sforzo extra per ingredienti di qualità. Assolutamente. È importante dare priorità alla freschezza e al gusto. Assicuriamoci di conservarli e gestirli correttamente anche a casa. Sì, dobbiamo conservarli nelle condizioni giuste per mantenerne la freschezza. Sono contento che abbiamo affrontato il processo insieme. Anche io. Siamo un'ottima squadra, anche in situazioni difficili. Questo è vero. La nostra determinazione e il nostro lavoro di squadra emergono sempre. Godiamoci i frutti del nostro lavoro e creiamo piatti fantastici. Non vedo l'ora cucinare con te è sempre un'avventura. Allo stesso modo, John. Facciamo un po' di magia culinaria. Anzi, iniziamo e prepariamo qualcosa di delizioso. Lezione 24. Possiamo semplicemente provare a ricordare ciò di cui abbiamo bisogno. Anna, possiamo solo provare a ricordare di cosa abbiamo bisogno. Ok, vediamo se riusciamo a ricordare tutto. Frutta, verdura, carne, latticini, pane, uova, snack e bevande. Bene, abbiamo tutto. Andiamo alla cassa. Speriamo di non dimenticare nulla. Terrò d'occhio gli articoli nel carrello. Ottimo, finiamo i nostri acquisti senza intoppi. Siamo riusciti a finire i nostri acquisti senza altri contrattempi. È un sollievo. Ora torniamo a casa. Non vedo l'ora di scaricare la spesa e rilassarmi. È stata una giornata piuttosto produttiva. Sicuramente, abbiamo ottenuto molto. Grazie per essere stata un'ottima compagna di shopping, Anna. Grazie anche a te, John. Torniamo a casa e godiamoci il resto della giornata. Concordato. È tempo di rilassarsi e godersi i nostri acquisti. Prepariamo dei piatti deliziosi con gli ingredienti che abbiamo. Sembra un piano. Sfruttiamo al massimo la nostra spesa. Andiamo verso casa. Lezione 25. Forse non sono il migliore nello shopping. Anna, potrei non essere la migliore a fare acquisti. Va bene, John. Tutti abbiamo i nostri punti di forza. Sono solo grata di averti al mio fianco. Oh, grazie. Sono felice di aiutarti. Sei organizzato e semplifichi le cose. E tu mi sostieni e sei un'ottima compagnia. Insieme formiamo una squadra perfetta. Proprio così. Ci completiamo bene a vicenda. Apprezzo la tua pazienza e la tua guida. È un piacere, John. Lo affronteremo insieme. Non potrei chiedere un partner migliore per lo shopping. È molto gentile da parte tua dirlo. Continuiamo ad affrontare le sfide insieme. Assolutamente, John. Possiamo gestire tutto ciò che ci capita. Con te al mio fianco, mi sento fortunato e fiducioso. E mi sento allo stesso modo, John. Siamo un'ottima squadra. Continuiamo a sostenerci e incoraggiarci a vicenda. Sicuramente. Insieme possiamo fare qualsiasi cosa. Grazie, Anna. Ti ringrazio per la tua presenza nella mia vita. Grazie anche a te, John. Anche io provo la stessa cosa. Lezione 26. Attenzione all'acqua bollente. Anna, fai attenzione a quell'acqua bollente. La sicurezza è sempre al primo posto in cucina. Me lo sono quasi rovesciato addosso. Prestare attenzione quando si maneggiano liquidi caldi. Mi assicurerò di essere più cauto. Gli incidenti possono succedere, ma dobbiamo prevenirli. Hai ragione. Dovremmo dare priorità alla sicurezza. Usiamo guanti da forno o presine la prossima volta. Buona idea. Questo proteggerà le nostre mani. E ricordati di mantenere una distanza di sicurezza dalla stufa. Lo terrò a mente. Grazie per il promemoria. È meglio prevenire che curare. Assolutamente. Dobbiamo essere sempre vigili. Cucinare è piacevole, ma dobbiamo stare attenti. D'accordo. La sicurezza non dovrebbe mai essere compromessa. Ora che lo sappiamo, continuiamo a cucinare. Sì, procediamo con cautela e finiamo il nostro pasto. E ricordate, il lavoro di squadra ci tiene al sicuro. Sicuramente. Insieme possiamo prevenire gli incidenti. Ottimo. Continuiamo a cucinare e restiamo al sicuro. Assolutamente. Finiamo quello che abbiamo iniziato. Lezione 27. Perché abbiamo un asciugamano a portata di mano? Anna, perché abbiamo un asciugamano a portata di mano? Ne abbiamo bisogno per pulire eventuali fuoriuscite o sporcizia. Ah, questo ha senso. È un'idea intelligente. Aiuta a mantenere la cucina pulita e sicura. Assolutamente. Un asciugamano è uno strumento utile. È importante affrontare tempestivamente le fuoriuscite. In questo modo evitiamo incidenti o scivolamenti. Inoltre, è più igienico avere uno spazio di lavoro pulito. D'accordo, la pulizia è essenziale in cucina. Teniamo sempre un asciugamano a portata di mano. Buona idea, dovremmo farla diventare un'abitudine. È un piccolo passo che può fare una grande differenza. Assolutamente. Un asciugamano può farci risparmiare tempo e fatica. E mantiene in ordine il nostro ambiente di cottura. Sono contenta che abbiamo un asciugamano a portata di mano. Anch'io, è una soluzione semplice ma pratica. Continuiamo a cucinare, sapendo di essere pronti. Sicuramente, affrontiamo eventuali fuoriuscite con il nostro fidato asciugamano. Avanti con un pasto pulito e delizioso. Questo è lo spirito, John. Cominciamo a cucinare. Lezione 28, ti ho portato dei fiori. Anna, ti ho portato dei fiori. Oh, quanto sei premuroso, John. Pensavo che avrebbero rallegrato la tua giornata. È così dolce. Grazie. Ti meriti qualcosa di speciale. Sai sempre come farmi sorridere. Sono bellissime. Apprezzo il gesto. È solo un piccolo segno del mio apprezzamento. Beh, significa molto per me. Ti meriti tutta la felicità del mondo. Grazie, John. Sei incredibile. Prego, Anna. Ti meriti il meglio. Sono fortunato ad averti nella mia vita. Anch'io sono fortunato ad avere te, Anna. Questi fiori hanno reso la mia giornata più luminosa. Era quello che speravo. Missione compiuta. Grazie ancora, John. Sei il migliore. È un piacere, Anna. Qualsiasi cosa per te. Lezione 29. Sai dov'è la stazione della metropolitana più vicina? Anna, sai dov'è la stazione della metropolitana più vicina? Sì, la stazione più vicina è a pochi isolati di distanza. Questo è comodo. Quanto tempo ci vuole per arrivarci a piedi? Dovremmo impiegarci circa 10 minuti a piedi. Perfetto. Possiamo risparmiare tempo prendendo la metropolitana. Sicuramente. È più veloce che guidare in questo traffico. La stazione è facile da trovare? Sì, è ben segnalato. Ci sono cartelli lungo la strada. Ottimo. Allora non ci perderemo. Non preoccuparti. Conosco bene il percorso. Dovremmo comprare i biglietti prima di arrivare? Li possiamo comprare alla stazione. È più comodo. Quanto costa la tariffa? Sono 2 dollari e 50 centesimi per corsa. Questo è ragionevole. Assicuriamoci di avere contanti o una carta. Buona idea. Non vogliamo sorprese. Non vedo l'ora di prendere la metropolitana. Anch'io. È un modo comodo per spostarsi in città. Grazie per averci guidato, Anna. Benvenuto, John. Andiamo subito alla stazione. Si parte. Lezione 30. Come possiamo arrivarci? Anna, come possiamo arrivarci? Puoi arrivarci girando a destra al semaforo. Oh, capisco. Quindi dobbiamo solo seguire la strada? Sì, proseguite dritto fino a raggiungere il semaforo. E poi giriamo a destra, giusto? Sì, gira a destra al semaforo e sarà alla tua sinistra. È un edificio grande o facile da individuare? È un grande edificio con un cartello, quindi dovrebbe essere facile da individuare. Sembra semplice. Grazie per le indicazioni. Nessun problema. Saremo lieti di aiutarti a trovare la tua strada. Sono felice che tu sia qui per navigare. Ci sono già stato, quindi conosco la strada. Questo è rassicurante. Seguiamo le tue indicazioni. Rimani concentrato e fai attenzione ai semafori. Lo farò. Pronti a partire? Sì. Let's go, John. Ciao, John.